Buonasera, ben trovati alla terza edizione del Tg6. Apriamo il nostro telegiornale parlando di ambiente perché è diventata una sfida per la regione Abruzzo la lotta agli scarichi fognari abusivi. Questa mattina è stato proprio il governatore della regione Luciano D'Alfonso a calarsi all'interno di un canale contaminato da tre diversi scarichi abusivi e ad apporre il classico tappo ad aria compressa. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. E' un'azione dimostrativa che ha il valore di togliere dalla insensibilità un argomento di questa portata che toglie bellezza ai fiumi, bellezza al mare e pone anche costi straordinari nei momenti eccezionali. Per cui era ed è necessario non solo fare ciò che è dovuto ma è necessario anche ripristinare una condizione di moralizzazione collettiva che riguarda gli amministratori pubblici ma riguarda anche gli imprenditori, la cittadinanza che deve quando sa contribuire a ricostruire le responsabilità. In questo caso per esempio abbiamo trovato tre scarichi abusivi che adesso abbiamo otturato con un sistema ad aria compressa che diffonderemo dovunque ci sono gli scarichi abusivi e poi ricostruiremo le responsabilità. Finisce qui? No. Noi vogliamo anche ripristinare una condizione di normalità anche dando luogo domani ad una rinaturalizzazione dal punto di vista della vita delle imprese che hanno incontrato negli anni passati queste difficoltà. Quello che è certo è che se non ci mettiamo insieme noi continuiamo a fare lavori o a monte o a valle che poi puntualmente produrranno inquinamento, alti costi rispetto al mantenimento della bellezza e danneggiamento rispetto alle stagioni turistiche e anche costi elevatissimi rispetto alla straordinarietà di alcuni interventi di bonifica. È un lavoro mai fatto nei decenni passati che noi vogliamo fare sapendo che c'è bisogno di risorse finanziarie ma non solo di risorse finanziarie, anche di una grande conoscenza puntuale del territorio e di un'appropriazione collettiva da parte di tutti i cittadini. Poco prima del blitz del presidente D'Alfonso questa mattina si era svolto sempre a Pescara l'incontro tra i vertici della regione, gli enti preposti e i sindaci della provincia di Pescara per decidere le azioni per combattere l'inquinamento dell'asta fluviale del fiume Pescara nel corso della riunione. Sono stati fissati gli obiettivi e anche il cronoprogramma. Si è svolta stamattina la riunione tanto attesa tra i sindaci della provincia di Pescara, i tecnici di Arta, quelli di Aca, i funzionari della regione, la polizia provinciale e le istituzioni regionali. Il caso sul tavolo è quello dell'emergenza e inquinamento sul fiume Pescara, della rete fognaria, degli impianti di depurazione. Il governatore D'Alfonso ha ascoltato tutte le parti e ha chiesto un cronoprogramma dettagliato di ogni azione che dovrà essere messa in atto da ogni comune. L'Aca ha spiegato che i lavori saranno suddivisi in sette macro aree. Circa 15 milioni di investimenti su tutto il territorio, prevalentemente la provincia di Pescara, ma ci sono anche degli interventi sulla provincia di Chieti, Francavilla prevalentemente, e qualcosa sul Terramano. Circa 15 impianti di depurazione. I lavori noi stiamo programmando per iniziarli entro fine marzo, inizio di aprile, sperando di completarli entro l'anno. I tecnici dell'Arta hanno invitato comuni e denti e soprattutto la regione a realizzare un piano più capillare dei controlli sul territorio. Questa collaborazione sull'intera provincia dell'Aquila non c'è. Non c'è sull'intera provincia di Chieti, c'è invece e funziona nella provincia di Teramo e su Pescara. Le stanzioni dovrebbero essere più severe perché molto spesso sono talmente blande che non coprono neanche le spese della corrente elettrica da parte di chi magari sta inquinando e perché ha spento il depuratore. Nella relazione effettuata dal presidente della provincia di Pescara, che ha sottolineato più volte le difficoltà per i piccoli comuni in ambito economico e di intervento, ha spiegato anche l'implementazione del 30% nell'ultimo anno dei controlli sul territorio da parte della Polizia Provinciale. Noi continuiamo a monitorare e a controllare gli scarichi, soprattutto anche in collaborazione con il nostro settore dell'ambiente che ci fornisce informazioni o da quelli che raccogliamo sul territorio, dall'informazione delle segnalazioni e cerchiamo di individuare le zone dove gli scarichi non sono regolari e poi procedere alle contestazioni in merito. Le sanzioni sono sia amministrative che di carattere penale, generalmente quelle penali sono relative agli scarichi industriali. La riunione si è chiusa con la richiesta di velocizzare i tempi per quanto concerne i progetti da presentare entro i prossimi 15 giorni, per avviare così entro il mese di maggio i primi lavori. Andiamo all'Aquila per parlare di cronaca giudiziaria perché nel processo penale per il crollo della Casa dello Studente, dove nella notte del sisma del 2009 morirono 8 studenti, la prescrizione è prevista per l'ottobre di quest'anno. Nel processo penale invece le parti coinvolte fanno scarica a barile sulle responsabilità. Giorgio Alessandri. Si torna a parlare del crollo della Casa dello Studente e dei relativi processi come da copione riparte anche l'indecoroso scarica a barile rispetto a quella strage. A denunciarlo è Antonietta Centofanti, portavoce del Comitato Familiare e Vittime Casa dello Studente. All'indomani degli articoli di stampa in cui sono riportate le dichiarazioni dell'Avvocato Vagna della Vigna, che rappresenta i ragazzi sopravvissuti e Michelone, lo studente israeliano morto nel crollo. Secondo Della Vigna, la Regione Abruzzo starebbe evitando di assumersi le proprie responsabilità di fronte alle parti civili, chiamando in causa le presunte colpe di altri soggetti, lo Stato, un immobiliare e fino anche l'ADSU, agenzia di proprietà della stessa Regione. L'ente avrebbe scaricato innanzitutto sullo Stato Centrale, attraverso il Ministero dell'Istruzione e l'Università dell'Aquila, per aver acquistato l'edificio incurante del deficit di carenza strutturale che soffriva. Poi l'Angelini, immobiliare che ha progettato l'immobile e che secondo la Regione non l'avrebbe fatto costruire secondo le normative. E infine anche l'ADSU per il ruolo di custode esclusivo dell'edificio. A sua volta per Della Vigna sarebbe anche la stessa agenzia per il diritto allo studio universitario a fare scarica a Barile sulla Regione, in quanto proprietaria dell'edificio. Un gran caos insomma. L'udienza civile è stata aggiornata a giugno. La Regione Abruzzo, prosegue la Centofanti, tira in ballo lo Stato, l'Università, l'ADSU, l'Angelini e gli imputati condannati nei primi due gradi di giudizio. Ed è solo l'inizio di un gioco sporco nel quale ciascuna delle parti, a vario titolo coinvolte, cerca di scrollarsi di dosso la responsabilità di quanto accaduto. Questo scenario, prosegue la Centofanti, si fa ancora più vergognoso se prendiamo in esame il rischio di prescrizione per il processo penale prevista per il prossimo 6 ottobre 2016. I tempi lunghi di un'iter processuale, le sentenze ribaltate come nella Commissione Grandi Rischi, il rischio di prescrizione, sempre in ragguato, non rispondono certo al bisogno di giustizia dei familiari delle vittime, di strage e tragedie di ogni genere, denuncia la portavoce del Comitato. Il tributo umano che essi hanno dovuto pagare serva perlomeno a cambiare la giustizia di questo Paese e ad abolire la prescrizione per i reati contro la vita, da concludere a Centofanti, come lo è stato quello che ha consentito che otto ragazzi, intestuti di sogni, venissero sepolti sotto il collo di un edificio impropriamente denominato Casa dello Studente e mai messo in sicurezza. Se lo si fosse considerato per ciò che era diventato uno studentato, ossia un luogo che ospitava ragazze e ragazzi, il loro futuro, la loro formazione, i loro primi amori, si sarebbero dovute porre in essere tutte le operazioni necessarie in termini di adeguamento e stabilità. Siamo alla pagina della cronaca a Montesilvano Blitz Interforze. Questa mattina all'interno di un appartamento di via Adda, i controlli disposti dal questore di Pescara Paolo Passamonti sono stati portati a termine per contrastare l'immigrazione clandestina e l'illegalità e hanno riguardato un edificio di quattro piani composto da 36 appartamenti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia, i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, le unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia, il personale della ASD e i sanitari del 118. I controlli, nati a seguito di una segnalazione, hanno accertato la presenza di cinque persone, quattro uomini e una donna privi del permesso di soggiorno. Si tratta di tre senegalesi, un malese e una nigeriana che occupavano tre diversi appartamenti. Sono stati colpiti così dal decreto di espulsione, indagini in corso per risalire alle persone che possono aver eventualmente favorito il soggiorno a Montesilvano dei cittadini irregolari. Cambiamo pagina, torniamo all'Aquila fumata nera per la nomina del nuovo manager della ASD Sulmona Avezzano. L'Aquila, la giunta regionale, ha rinviato la decisione ed il nome di Rinaldo Tordera da più parti, indicato quale nuovo manager sembra perdere quota ogni giorno di più. Sembra ancora inattomare la nomina del nuovo manager dell'ASD Sulmona Avezzano L'Aquila e il nome su cui sembrava ormai essere stata individuata la quadra da giorni, quello del direttore dell'ASM Rinaldo Tordera, divide il mondo del sindacato e della politica con la giunta regionale che ha rinviato ancora una volta la nomina dell'erede di Giancarlo Silveri. Oltre alla dicotomia manager o medico alla guida dell'ASL, a creare più di un mal di pancia sempre essere proprio la figura dell'ex direttore generale della Carispac. Un nome inaccettabile secondo il consigliere regionale di Forza Italia Emilio Jampieri che reclama maggior coinvolgimento dei territori. Ancor più duri sindacati, una nomina come quella di Rinaldo Tordera, nuovo manager dell'ASL aquilana, da quello che si vocifera, aprirebbe il campo a dei ricorsi e anche noi come sindacato ci associamo a questa cosa, afferma il coordinatore provinciale sanità della Cisla Gianfranco Giorgi. In relazione al fatto che l'ex direttore della Carispac, dato come possibile candidato alla direzione generale, figura negli elenchi di idonei di regioni come Lombardia e Toscana, ma non in quello dell'Abruzzo. Le nomine vanno fatte seguendo procedure corrette per evitare la paralisi amministrativa, aggiunge Giorgi, un contenzioso sarebbe devastante. Sulla sesta linea, l'UGL che attraverso il segretario provinciale Giuliano Vespa annuncia il possibile coinvolgimento della magistratura, sembrerebbe, afferma la Vespa, sempre più vicina alla nomina manager dell'ASL Avezzano sul Monalacuila, dell'ex direttore Carispac, ex consulente della Edimo Fallita, attuale amministratore unico ASM e amministratore delegato di sviluppo Italia Abruzzo, Rinaldo Tordera. È noto a tutti che Tordera non rientra nell'elenco regionale degli idonei, dove, come scritto nella delibera di bando, bisogna attingere. Ma di tutto ciò, conclude la Vespa, non si tiene conto ed il duo excelente d'Alfonso non si preoccupa né dei ricorsi che scaturirebbero da questa nomina, né dagli atti che anche noi come UGL porteremo in procura. Insomma, una situazione in divenire che potrebbe risolversi anche nelle prossime ore con un finale sorpresa di chi, Tordera, candidato Papa, esce cardinale dal conclave e con una nomina che alla fine potrebbe essere al femminile. In Lizza, Patrizia Masciovecchio, direttrice del Dipartimento di Medicina alle gare del San Salvatore e Sabrina Cicogna, direttrice dell'Unità di Cardiologia del Nosocomio Aquilano. Noi torniamo a parlare della regione Abruzzo perché Sandro Di Minco, il nuovo direttore generale dell'ARIT, azienda regionale, per l'informatica e la telematica, è stato nominato ieri sera dalla Giunta regionale in sostituzione di Andrea Grilli, Sandro Di Minco, avvocato, consulente presso diverse aziende pubbliche e private in diritto delle tecnologie e dell'informazione, dell'amministrazione digitale e della semplificazione amministrativa. È stato scelto per il suo curriculum e per il progetto presentato, convincente, che vuole fare dell'ARIT lo strumento rinnovato per realizzare un'agenda digitale abruzzese e contribuire all'efficientamento della pubblica amministrazione regionale. Questa mattina Di Minco ha incontrato il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso per mettere a punto i primi impegni operativi. E noi ci spostiamo a Teramo perché si è svolta questa mattina nella città aprutina, presso la provincia, l'Assemblea dell'Assi, chiamata nuovamente dopo tre anni, a scegliere il rappresentante dell'ERSI, l'ente unico per la gestione del servizio idrico. Elisa Leuzzo. Dopo tre anni si torna a parlare dell'ERSI, l'ente unico per la gestione del servizio idrico, perché in questi anni non si è mai riunito, costituito. Questo è l'ente sostanzialmente pubblico di livello regionale che deve garantire una programmazione di tutto il servizio idrico. Poi le gestioni saranno svolte in relazione al piano complessivo regionale dell'ambito dell'acqua. Nel frattempo sono cambiate le regole e cambiata la rappresentatività in seno all'ente e così oggi i sindaci della provincia di Teramo sono tornati a riunirsi per votare chi lo dovrà rappresentare. Un'unica indicazione questa volta, un solo rappresentante per provincia. Un'ente che deve nel futuro programmare a livello di ambito regionale e poi anche di subambiti provinciali per quanto riguarda la gestione. La gestione intanto va avanti, i finanziamenti sono arrivati, ci sono importanti investimenti sia sulle condotte che sui depuratori in questa provincia di Teramo, adesso è necessario uscire dal commissariamento e ripristinare anche gli organi politico-istituzionali di programmazione e regolazione del servizio su tutto il territorio regionale e anche su quello provinciale. Sarà compito dell'ERSI, dice la legge regionale, organizzare il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme di servizi pubblici di captazione, aduzione e distribuzione di acqua ad uso civili, di fognatura e di depurazione. Cambiamo pagina, ora parliamo di una iniziativa che ha visto protagonisti questa mattina i bambini delle quarte e quinte classi dell'Istituto Comprensivo 8 di Pescara che hanno visitato gli uffici dei carabinieri del NAS Abruzzo di Pescara. Vediamo. L'integratore va ad integrare l'alimentazione, la sommità più ferro. Capitano Candelli, oggi avete tenuto una lezione particolare ai bambini della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo 8. Abbiamo visto dei bambini molto molto interessati. Sì, sono interessati perché parliamo di argomenti semplici che comunque vanno nella direzione della sicurezza alimentare. Partiamo da concetti semplici, ma vogliamo istruirli, educarli verso gli adulti che sappiano poi quello che mangiano, quello da cui si devono difendere. E quindi diciamo che sono i concetti basilari che vogliamo dare. Ma partiamo proprio dalle nostre attività nella filiera alimentare. Vediamo un po' tutto ciò come si evolve, i vari step della filiera alimentare, cosa noi effettuiamo quotidianamente, i controlli che facciamo. E c'è interesse, perché ovviamente i ragazzi sono bombardati di informazioni anche che riguardano la cucina, la buona cucina. Ed è la prima volta che sdoconiamo questo ufficio a una classe della scuola elementare, una quarta elementare, a un paio di quarti elementari in verità, che visitano questi uffici e che vogliono conoscere anche le attività che noi svolgiamo quotidianamente. Noi ci muoviamo e andiamo a scuola dai NAS oggi, proprio per imparare e entrare proprio nelle istituzioni e imparare in prima persona quelle che sono l'educazione alla sicurezza, alla legalità. I bambini poi veicoleranno senz'altro le loro famiglie, le loro conoscenze, le riflessioni, fatte veramente in maniera incomiabile qui nella sede dei NAS. E quindi io ringrazio il comandante Candelli di questa grande opportunità e anche gli insegnanti che hanno preparato i bambini a questa occasione. Cambiamo ancora pagina. Venerdì 26 febbraio presso l'Università degli Studi di Teramo si svolgerà il convegno denominato Parchi Capaci di Futuro, i parchi per lo sviluppo delle comunità locali. Al via anche un master denominato Gesloplan, Elisa Leuzzo. Quali sono gli obiettivi e gli interventi programmati? L'obiettivo del convegno è aprire un ragionamento serio sullo sviluppo delle aree interne e che in Abruzzo vuol dire per forza ragionare con le aree naturali protette e con i parchi nazionali. Al convegno parteciperanno i direttori dei parchi nazionali proprio per capire da loro quali possono essere il futuro della gestione dei parchi. In particolare ci sarà la partecipazione dell'onorevole Borghi che oltre a essere il presidente dell'UNCEM è importante il relatore di una serie di normative che riguardano proprio i piccoli comuni, lo sviluppo della montagna e la strategia delle aree interne nazionale. Per cui sarà un'occasione insieme a lui, insieme anche al presidente di Federparchi Abruzzo e insieme a alcuni docenti dell'Università di Teramo ragionare proprio su quello che sarà il futuro della strategia di sviluppo delle aree interne della regione. L'Università di Teramo deve e tra i suoi compiti istituzionali vi è quello di intervenire nell'ambito dei territori. Territori che nel caso della regione Abruzzo rappresentano in termini di protezione una larga fetta del proprio territorio così come un biglietto da visita della regione Abruzzo a livello nazionale e internazionale. Per portare a termine però tutto questo tipo di operazione e di progetto servono degli operatori, servono dei protagonisti del territorio che devono essere formati. Noi ci rivolgiamo ai giovani neolaureati che a questo punto possano intraprendere nell'ambito dei territori protetti favorendo lo sviluppo locale e favorendo anche un loro benessere sociale compatibile con l'ambiente nel quale operano. Lezione speciale questa mattina per gli studenti dell'Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara in cattedra Massimo Oddo tecnico della formazione bianca-azzurra di calcio impegnata nella lotta promozione nel campionato di Serie B e alcuni giocatori si è parlato di educazione civica, di civismo e di rispetto per l'ambiente. Massimo Oddo, oggi il Pescara incontra i ragazzi delle scuole è importante laggiare messaggi che riguardano il rispetto, il civismo l'educazione anche nelle scuole? Eh vabbè, sono messaggi importanti che riguardano la vita comune l'amore per la propria città per l'ambiente in cui si vive quindi noi sappiamo di essere veicoli di comunicazione importanti importantissimi, fondamentali a volte dobbiamo dare l'esempio e facciamo quel piccolo che ci consente di poter dare un messaggio positivo. Rispondendo a una domanda di uno studente poco fa Massimo Oddo ha detto bisogna puntare sempre al massimo perché solo così si possono raggiungere degli obiettivi. Beh sì, diciamo che questa è l'indole della mia vita e cerco di passare questo messaggio nel senso nel mondo di oggi dove le opportunità sono sempre minori qualsiasi tipo di obiettivo tu ti voglia porre qualsiasi tipo di lavoro mestiere tu voglia fare in ambito sportivo o non devi sempre puntare a essere il migliore perché con la mediocrità vai poco lontano quindi devi sempre puntare a essere il migliore il più bravo per cercare di raggiungere un obiettivo. Sì sì, oggi è stata una giornata veramente importante per la Cerbo divertente perché i ragazzi sono entusiasti siamo veramente onorati di avere la squadra che ci ha motivato gli alunni parlando di tematiche che noi affrontiamo ogni giorno sulla legalità e rispetto delle regole sul civismo ma sentirle dire dai loro eroi sicuramente avrà un'importanza e un'incisività nella formazione degli studenti di notevole spessore. Questo servizio ci introduce ovviamente alla pagina sportiva e parliamo ancora del Pescara oggi allenamento all'appoggio degli ulivi buone notizie per il tecnico biancazzurro Massimo Oddo dopo i recuperi di ieri di Caprari Mandragora e Zampano che avevano avuto problemi soprattutto per l'influenza oggi si sono aggregati al gruppo anche la Padula Torreira e Fornasieri importante soprattutto il recupero del difensore ancora lavoro personalizzato per Campagnaro si pensa alla gara con Lascoli noi abbiamo ascoltato il portiere della formazione biancazzurro il terzo portiere Aldegani Aldegani come si prepara una partita importante come quella con Lascoli come state vivendo nello spogliatoio le ore seguenti alla beffa di Cagliari e quelle che precedono questa partita molto attesa anche dai tifosi ma la partita la stiamo preparando nei migliori dei modi come facciamo tutte le settimane cercando di dimenticare la sconfitta di Cagliari anche se c'è da prendere tutto quello di buono che è tanto preparare nel migliori dei modi la partita con Lascoli e riscattare la sconfitta dell'andata perché brucia ancora una sconfitta quella dell'andata che arrivò dopo una partita ben giocata dal Pescara Pescara che sta giocando bene in queste ultime partite però a Cagliari è arrivata questa sconfitta come si può spiegare tu che hai visto dall'esterno questa partita ma a volte purtroppo nel calcio non sempre chi gioca meglio vince puoi essere condizionato dagli episodi ed è quello che è successo a Cagliari purtroppo forse siamo mancati un pochino a livello di concretezza sotto porta ma la prestazione c'è stata e giocando così a mio avviso difficilmente perderai altre partite la domanda è sempre quella più facile raggiungere il Crotone o cercare di accumulare un vantaggio di 10 punti sulle quarte ma l'obiettivo nostro è cercare di domenica in domenica di portare a casa il massimo possibile e poi alla fine del campionato si vedrà anche perché le partite sono tante il campionato di Serie B regala sempre forti emozioni ogni domenica non c'è mai niente di scontato l'importante è dare continuità alle nostre prestazioni e sono convinto che i risultati arriveranno Ad Aldegani non possiamo non chiedere anche un giudizio sul campionato di Fiorillo e anche di Aresti che è stato impegnato nell'ultima partita di Cagliari due portieri che stanno disputando una stagione sicuramente positiva Sì io sotto quel punto di vista da compagno posso solo dire che per me fanno parte di un gruppo di portieri che sono tra i migliori della Serie B sia per qualità che per regolarità di prestazione che stanno facendo e gli auguro il meglio da qui alla fine della loro carriera A proposito di Pescara Ascoli i tifosi biancazzurri si stanno mobilitando oggi pomeriggio è stato diramato un comunicato dei Pescara Rangers Rangers che invitano tutti i tifosi allo stadio e per sabato è stato organizzato un corteo che scorterà la squadra proprio prima della partita dall'hotel Dragonara proprio allo stadio Adriatico noi parliamo di La Padula perché l'attaccante biancazzurro ha detto no almeno per il momento alla chiamata del CT del Peru Garega lo ha fatto con una lettera scritta proprio al CT peruviano su Facebook ciao Peru e peruviani mi sembra giusto comunicare ha detto La Padula che è stata una mia decisione prendo questa decisione e confido di aspettare fino a giugno per potermi ora concentrare sul campionato di serie B ha scritto La Padula nel giugno scorso avevo detto che avrei dato la mia anima il mio cuore per il Pescara e lo voglio fare per questo motivo voglio avere la tranquillità necessaria per poter decidere voglio continuare a dare per il momento il 100% al Pescara voi popolo peruviano mi avete riempito il cuore di un amore immenso e sono sicuro che tanta forza mi servirà in campo ora però il discorso è finalizzato soprattutto al Pescara grazie per l'affetto dimostrato queste alcune righe della lettera scritta su Facebook da La Padula al CT Peruviano e proprio ai tifosi della nazionale sudamericana noi parliamo ancora di Pescara Ascoli e andiamo ad ascoltare l'attaccante della formazione marchigiana Petagna che squadra è il Pescara abbiamo visto che ha messo in grossa difficoltà il Cagliari sul proprio campo una squadra che esprime un gioco bellissimo forse migliore della serie B però ha anche qualche punto debole si 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 giocano molto bene perché giocano tutti molto corti con tanti 1-2 sono molto forti a centro campo e molto forti in attacco e c'è un attore secondo me molto bravo l'anno scorso ho perso una semifinale playoff contro di loro quindi ho tanta voglia di giocare di nuovo contro di loro martedì ci sarà la sfida salvezza col Modena ci state già pensando perché quei punti varranno tanto oppure primo obiettivo è il Pescara primo obiettivo è il Pescara perché secondo me valgono tre punti come col Modena quindi bisogna pensare prima al Pescara e poi pensare al Modena parliamo ancora di serie B della Virtus Lanciano nelle prossime tre gare ci sarà un mini turnover da parte del tecnico Maragliulo che farà ruotare qualche giocatore proprio per gli impegni ravvicinati intanto notizia di questo pomeriggio l'addio del brasiliano Zeduardo che lascia il Lanciano per motivi personali vediamo il servizio nella sofferenza i ragazzi sono stati bravi bravi e chiaramente un po' fortunati a tenere la partita fino all'ultimo minuto e in questo contesto in quest'arco di partita non posso dimenticare che comunque abbiamo avuto quattro palle gol clamorose soprattutto soprattutto l'ultima come avete ben visto quando Guido ha perso un po' l'equilibrio perché altrimenti sembrava una palla che insomma doveva essere poggiata in porta assolutamente non proprio il momento della verità probabilmente ancora no perché ci sono tante partite però un momento determinante dove sarà importantissimo anche centellinare l'energia dei ragazzi indubbiamente tre partite in sette giorni bisognerà fare molta attenzione e anche a far recuperare qualcuno e mettere dentro sicuramente qualcuno che in questo momento sta anche scalpitando per poter giocare Sostenuto non lo so chiaramente non penso di cambiare tutta la squadra però indubbiamente credo veramente che praticamente non possano giocare sempre gli stessi 11 tre partite in una settimana sono contentissimo io credo che tutti gli allenatori possano essere contenti di avere in panchina dei giocatori come Federico che in qualsiasi momento possono entrare e fare la differenza e in altri momenti magari essere presi in considerazione anche per giocare dall'inizio Parliamo di Lega Pro del Teramo perché atteso nel fine settimana il pronunciamento della Corte Federale d'Appello circa l'eventuale restituzione dei punti di penalizzazione alla formazione Biancorossa ma si pensa intanto alla gara con la Maceratese gara che si giocherà domenica al Bonolis sul momento del Teramo abbiamo ascoltato il capitano Speranza quando perdi una partita è sempre un'occasione persa prima di tutto poi noi ripeto come abbiamo sempre fatto abbiamo guardato sempre partita dopo partita sicuramente quella era un'occasione importante per vincere e magari pensare a fare qualcosa in più dare un senso a questa stagione cercheremo di farlo sempre non è che adesso abbiamo smesso assolutamente però dobbiamo capire alcune cose per cercare di arrivare a un obiettivo importante sicuramente adesso pensiamo subito a fare punti per salvarci prima possibile poi poi vediamo il presidente come detto tu lo conosco da un po' di tempo quindi sappiamo com'è com'è fatto vuole tanto da noi pretende tanto da noi perché comunque lui non ci fa mancare assolutamente mai nulla quindi è normale questo che un presidente pretende tanto dai suoi giocatori ripeto il suo sfogo è normale lo conosciamo siamo noi i primi a essere rammaricati per aver fatto comunque una brutta prestazione una squadra comunque forte una squadra che comunque sta lottando sta lassù in classifica per noi è un testo importante e quindi ripeto dobbiamo solo noi dobbiamo fare risultato in tutte le maniere dobbiamo cercare di fare bottino pieno tre infortunati e squalificati sicuramente mancheranno comunque abbiamo tre persone fuori e non sono non sono poche però gli altri che sono in rosa sono lo stesso livello e sicuramente dovranno mettere ancora qualcosa in più rispetto a chi gioca e magari questo ci fa fare la differenza e lasciamo il calcio per parlare dei mondiali studenteschi di sci che sono al via acceso ieri sera all'Aquila in Piazza Duomo il tripode dei mondiali di categoria le gare di sci nordico ed alpino si svolgeranno infatti sulle piste di Campo Felice e Dovindoli vediamo il servizio un arcobaleno di colori un'allegra bavele di sensazioni l'Aquila affida allo sport il suo messaggio di rinascita di pace attraverso la cerimonia d'apertura dei campionati mondiali studenteschi di sci organizzati dall'International School Sport Federation dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico Provinciale per l'Abruzzo il campanile della cattedrale di Piazza Duomo si è acceso per accogliere le 17 delegazioni di sciatori provenienti da molti paesi che discuteranno la settimana dei campionati che avranno termine il 27 febbraio prossimo lo slogan scelto per l'evento i tuoi sci le nostre ali è stato il leitmotiv della cerimonia due vigili del fuoco sciatori scendendo dal cielo si sono trasformati in angeli per accogliere le delegazioni provenienti da Austria Belgio Croazia Inghilterra Estonia Francia Germania Russia Scozia Slovacchia Spagna Svizzera Turchia e ovviamente Italia studenti rappresentanti delle diverse delegazioni hanno depositato sul palco un oggetto simbolo della propria nazione angeli sciatori invece hanno consegnato la bandiera dell'AISF all'ultimo tedoforo una squadra intera di atleti di Special Olympics prima dell'accensione del tripode sul campanile della cattedrale desidero esprimere il mio orgoglio nel trovarmi nella città dell'Aquila ha esordito il presidente mondiale AISF Laurent Petrinka in messaggio multilingue sono estremamente grato e favorevolmente impressionato dalla efficiente organizzazione che ha reso possibile la realizzazione dei campionati mondiali studenteschi di sci da oggi al via le gare di sci nordico ed alpino dunque sulle piste di Campo Felice Dovindoli dove organizzatori e tecnici sono al lavoro da giorni per preparare il campo di gara le alte temperature e le scarse precipitazioni nevose non hanno impedito l'avvio della Kermess mondiale che ha riacceso i riflettori sulla città dell'Aquila che nonostante le mille difficoltà si è dimostrata in grado di poter accogliere una manifestazione di alto livello e con questo servizio di sci siamo giunti al termine della terza edizione del TG6 grazie come sempre per averci seguito dalla nostra redazione vi giunga l'augurio di una serena notte 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 grazie a tutti